Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A12 fare attenzione per vento forte tra le diramazioni per Livorno e il bivio per l'Aurelia. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata e il restringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la 1 di Firenze in Pruneta. A causa di due frane sulla statale 12 della Betone e del Brennero, chiuso in entrambe le direzioni il tratto in località Borgo-Amozzano e sulla statale 64 Porrettana, chiuso sempre in entrambe le direzioni il tratto tra Pavana e Ponte della Venturina. A causa delle avverse condizioni meteo sono stati cancellati gli aliscafi da Cavo a Piombino delle 14.55 e delle 16.05. Borsi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!